Saranno impiegate nelle attività di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, le 15 guardie zoofile messe a disposizione del comune di Margherita di Savoia grazie ad un protocollo d'intesa firmato dal sindaco Paolo Marrano con i responsabili dell'associazione. Si tratta di un ulteriore tassello messo a punto dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di contenere il fenomeno dell'abbandono dei sacchetti di spazzatura non solo nelle zone periferiche del paese ma anche in centro dove l'immondizia viene lasciata sotto gli alberi. Le guardie zoofile saranno coordinate nei loro turni di intervento e controllo del territorio dal comando di polizia municipale e la loro presenza auspica il sindaco dovrebbe funzionare da deterrente contro chi non rispetta tempi e modi della raccolta rifiuti differenziata. L'obiettivo è quello di aiutare i vigili urbani, gli attuali vigili urbani nelle attività quotidiane che riguardano esattamente un po' la segnalazione dei rifiuti in abbandono, la segnalazione di deiezioni canine, quindi tutte attività sociali di rilievo che danno anche lustro alla città e che servono per in qualche modo per godere delle nostre vie e per vedere un paesaggio completamente diverso. Non devo essere io certamente a sottolineare il fatto che attualmente è uno spettacolo pietoso, quello di soprattutto sul lungomare o in alcuni luoghi centrali della città assistere a questo fenomeno veramente di cattivo gusto. Quindi io mi auguro che questi signori, questa gente possa veramente dare una mano all'amministrazione comunale nel cercare di eliminare questi fenomeni che poi connotano una città nel bene e nel male.